Mi porto a casa un po' di giocosità, di consapevolezza e grinta. È andata molto bene, sono venute fuori tante difficoltà, ma è quello che volevo, nel senso sono le mie difficoltà e sono state affrontate veramente bene. La consiglio perché chi ha voglia di mettersi in gioco e di crescere è il posto giusto. Prima di partecipare mi sentivo bene perché comunque andava bene tutte le mie cose, la mia vita. Ora mi sento ancora meglio. Ora mi sembra possibile affrontare le mie difficoltà quotidiane che prima non vedevo, o comunque non sapevo affrontarle. Ora ho l'asso nella manica. Una volta a casa mettiamo subito in pratica quello che ho imparato, ma con più leggerezza. Diciamo che la logica la lascio, la posso tranquillamente lasciare qua. Grazie di cuore, grande Angelo. Altronde l'ho scelta io e devo dire che sei veramente una grande donna. Grazie di cuore. Grazie. Grazie.